ciao a tutte benvenuti nel nostro nuovo video insieme dopo tanto tempo il video di oggi è un video challenge di trucco abbiamo qui due gruppi tu puoi vedere il gruppo 1 io il gruppo 2 allora questo è il gruppo 1 c'è una ciotolina con i bigliettini poi vi spieghiamo meglio e le palettine il gruppo 2 sarebbe questo abbiamo preparato tre palette per un gruppo e per l'altro e abbiamo già preparato i bigliettini qui dentro la prima cosa che facciamo quindi è sorteggiare tra il gruppo 1 il gruppo 2 capire quale ciotola fatto questo vediamo a chi viene assegnata la ciotola 1 la ciotola 2 io pescherò per lei dopo decidiamo quanti colori e le pescherò per me altre tanti colori la seconda cosa che facciamo leviamo poi tutti i bigliettini degli ombretti perché non abbiamo detto che le cose che sorteggiamo sono gli ombretti e le tinte labbra quindi la la seconda parte sarà dedicata alle tinte labbra che sono sei queste qua della chico perfetto allora direi di incominciare anche perché lo sapete che quando io faccio un video con mia figlia per registrarlo ci impieghiamo un'eternità perché stiamo ridendo come delle matte quindi direi di incominciare allora aspetta che leva un attimino mettiamo all'interno ci sono due micro bigliettini e sorteggiamo per vedere quale gruppo capita me e quale gruppo capita mia figlia mia figlia estrae quello che sceglie è quello che sceglie è il mio gruppo quindi quello che avevo già davanti queste tre palettine saranno le scelte dei miei ombretti e invece il gruppo 2 queste palette qua faranno le sue scelte andiamo in velocità sennò questo video dura un'eternità allora queste sono quelle mie quindi tu devi sorteggiare qua ok inizio io a sorteggiare per te sì mi giro un po' perché a me fanno sempre riflesso gli occhiali ma io non vedo niente allora questa era abbinata al mio gruppo al gruppo 1 quindi lei adesso estrae quanti ombretti decidiamo allora ho 2 io per farlo complicato lo farei con 3 ok una volta che sceglie apro e vi faccio vedere i colori selezionati allora io li mischio perché non li ho mischiati prima teniamolo così ok mi prendo uno vediamo il numero 7 di questa palette allora la palette avocado il numero 7 ok qual è questo? no forse questo questo si allora il numero 7 della palette avocado è questo qua quindi però la ti è andata bene ricordiamocelo perché io me lo dimentico ti lascio il numero è andata bene fino a un certo punto perché tu hai delle belle palpebre io no però è il marroncino ci sta ok di baby k paradise island che è questo ah sempre marrone c'è marrone quindi il nudo allora questo qui è il secondo colore e lo appoggiamo quindi mi sa che poi mi devo anche ricordare me le appoggio qua se non mi dimentico vediamo la terza dell'altra palette quindi uno per ognuno è riuscito il 5 l'azzurro questa qua ok si di questa palettina di primark questo colore qua quindi io ho due nude e l'azzurro uno di ogni paletto adesso vediamo adesso vediamo cosa posso pescare per lei mi impegnerò immagino allora woodstock vintage quindi sarà un giallo woodstock è giallo no e questo qua che è bianco per lato bello questo qui e quindi questo lo mettiamo qua così puoi ti ricordi per ora peschiamo il secondo sempre della palettina vintage trip shop giallo vabbè giallo mi piace questo qua mi è caduto uno aspettate prendiamo quello che è caduto prendiamo quello che è caduto evidentemente voleva uscire berry bite il numero 3 di questa questo roda quindi non c'entra niente con il giallo di prima questi sono i colori che sono capitati a mia figlia quindi lei lavorerà solo con queste due palettine questa no e invece io lavorerò sia con la paletta avocado sia con quella baby cake che con quella di primark basta allora adesso sorteggiamo le tinte ne svolgiamo solo uno sì per le tinte abbiamo fatto tutte le numerazioni sono queste dalla uno all'altro sono comunque 8 6 no 6 tinte però sono numeri diversi ok adesso vediamo piegali li mettiamo qua all'interno io ne estraggo una per lei e lei ne estrae una per me questa estraida bene perché già ho due colori che non c'entrano niente tanto che mi spesso ok vediamo la 07 sarà praticamente un trucco per Halloween credo in anticipo perché è una rosa molto bella sì col giallo e l'altro colore quale non mi ricordo neanche più va bene adesso lei estrarà la mia la 09 questa non mi piace molto però vabbè no purtroppo è questa sì la 09 invece è del mio colore quindi togliamo i trucchi in più ci riveli ora adesso andremo a effettuare il trucco ovviamente lo velocizzeremo vi lasciamo alle immagini mi piace molto Grazie a tutti. 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 Mi sono andati nelle ciglia, quindi avevo le ciglia bianche e basta, non ho messo il blush, il blush ce l'avevo da stamattina e non l'ho messo. Io invece pensavo peggio per gli occhi, invece l'unica cosa che non c'entra niente è la tinta labbra che è questa, che questo colore non mi sta neanche benissimo in generale, non mi fa impazzire. Però per il resto negli occhi non mi dispiace, infatti mi sa che mi lascio gli occhi e mi levo le labbra. Io mi leverò senz'altro le labbra, tra poco devo andare al lavoro, quindi mi leverò questo e lascerò il trucco occhi anche se non è niente di che, però si può dire, sembra sempre semplice. Andate quindi a vedere il canale di mia figlia per vedere il video gemello, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto. Noi ci siamo divertite come al solito nel girarlo, perché poi ci siamo truccate insieme e niente, quindi ci siamo divertite. Se vi fa piacere, vi è piaciuta come tipologia di video, potete anche scriverci nei commenti che cosa ci consigliate e niente, noi ci divertiremo a riproporlo. Io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutte! Ciao a tutti! Ciao a tutti!